Allora, Coccia, una doppietta, la prima nella tua carriera? Sì, nel semiprofessionismo sì, la prima doppietta, perché fino ad ora avevo fatto sempre settore giovanile, l'anno scorso avevo fatto solo un anno a Manfredonia, in eccellenza, però non avevo fatto mai doppietti. Nel calcio dei grandi? Sì, nel calcio dei grandi, sì. Una dedica particolare? Sicuramente una prima dedica la voglio fare al mister, che mi sta dando l'opportunità di esprimermi al meglio, anche se devo ringraziarlo tantissimo, perché sto migliorando tantissimo grazie a lui. Poi voglio fare una dedica anche alla mia famiglia. Il campo in queste condizioni, certo ormai ne state trovando tanti anche fuori casa, però ritrovare lo Zaccheria con questo terreno di gioco sicuramente mette in difficoltà una squadra tecnica come la vostra? Sì, difficoltà che alla fine non può essere certo un alibi, perché sicuramente come il campo è difficoltoso per noi, anche l'avversario ci gioca su quel campo e quindi anche l'avversario trova difficoltà, però siamo riusciti ad avere la meglio proprio perché siamo stati più concentrati e abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato, come abbiamo fatto in altre occasioni. Ancora una volta avete un po' stentato all'inizio, siete riusciti fuori, soprattutto nella ripresa? Sì, come al solito, anche se l'approccio è stato positivo, poi siamo calati un po', però alla fine siamo venuti fuori nella ripresa e siamo riusciti ad avere la meglio. L'arbitro non ti ha graziato dopo il gol perché la maglia non l'avevi sfilata? No, la maglia la volevo sfilare, non me l'hanno fatta sfilare, però alla fine non è che mi interessa più di tanto la munizione, dopo visto che avevo fatto la doppietta, quindi è comunque una gioia. Insomma con questi arbitri bisogna stare attenti perché è un secondo cartellino. Beh sì, sono arbitri giovani che non hanno esperienza, quindi alla fine bisogna sempre stare attenti, però contro l'arbitro non ci si può ammettere. Allora Pasquale, bisogna fare i conti con arbitraggi, dopo quello che è successo l'altra settimana, insomma c'è da aspettarsi un po' un atteggiamento un po' particolare, diciamo un po' particolare da parte dei direttori di gara. Sì, non capisco perché, però sembra che abbiamo fatto qualcosa di male. In realtà abbiamo sempre mantenuto un comportamento adeguato a qualsiasi tipo di situazione, perché siamo un popolo civile, perché per fortuna o per bravura siamo riusciti a rispettare quelle che fino ad oggi è stato il nostro lavoro e di conseguenza le aspettative di un campionato iniziato tra mille difficoltà. Però questo tipo di comportamento, come dire, un po' in controtendenza con il nostro comportamento ci fa pensare. Credo che chi ha visto la partita possa giudicare in maniera molto autonoma. È un po' una casta, diciamo, nel mondo arbitrale. Se succede qualcosa a un collega, poi gli altri nelle domeniche successive arrivano un po' prevenuti. Purtroppo questo è accaduto questa settimana e speriamo che non accada anche nelle prossime. Non voglio pensare che sia una casta. Voglio pensare che come siamo noi sotto mira e sotto giudizio di giornalisti, di dirigenti, di spettatori, anche gli arbitri, debbano avere la considerazione giusta quando ne hanno bisogno. Una valutazione tecnica credo che si possa fare. Tenendo presente, conto che comunque sia, crediamo che tutto ciò che venga fatto è sempre in buona fede. Sul giudizio tecnico, democraticamente, credo che si possa esprimere un giudizio senza ledere l'immagine o entrare nel personale. Il Foggia, abbiamo detto, è una squadra molto tecnica, risente dei terreni irregolari. Fuori casa ormai ci state facendo un po' il callo, diciamo così. Adesso purtroppo dovete fare i conti anche allo Zaccheria, con un manto erboso praticamente inesistente, almeno oggi, con tanta sabbia che vi ha messo in difficoltà. Sì, è un campo che sta rinascendo, un'erba nuova che sta rinascendo, quindi dobbiamo aspettare qualche settimana prima di vederlo e averlo a disposizione. Stanno lavorando, purtroppo sono lavori che vanno fatti, poi la tempistica è quella che è, bisogna rispettare i tempi. Oggi il Foggia ha dimostrato di essere ancora una volta un diesel, cioè ha bisogno di un po' di tempo per carburare, quasi sempre esce fuori, soprattutto nella ripresa. No, diciamo che secondo me non abbiamo, in questo caso non sono molto d'accordo, nel senso che nel secondo tempo abbiamo concretizzato la mole di gioco, mentre nel primo, in diverse occasioni, ci è mancato sempre il tocco finale. Giglio un po' impreciso, il tiro di Agostinone, colpo di testa di Quinto fuori, di una serie di episodi che non sono stati capaci e non siamo stati bravi a finalizzare e se alla lunga non li fai, poi paghi d'azio. Per fortuna nel secondo tempo siamo riusciti a concretizzare e credo che alla fine tenendo conto delle assenze dei giocatori, forse anche fuori ruolo, credo che ampiamente i giocatori si siano meritati questa vittoria. A proposito dei giocatori fuori ruolo e di giocatori inesperti, ovviamente il rigore è un regalo sacrosanto da parte del Foggia agli avversari. Sì, un eccesso di voglia da parte di Tomaselli che ha fatto una buona gara che è stato espulso immeritatamente. Il ragazzo ha avuto anche uno sfogo, un pianto isterico, però tutto sommato ha fatto una partita da giudicare positiva. Poi le ingenuità ci sono a tutti i livelli e in tutte le categorie. Oggi ha voluto in qualche maniera far sentire la sua presenza, ma non c'era bisogno di un intervento così precipitoso. L'emergenza continua alla luce di quello che è successo oggi in campo. Domenica c'è da inventarsi un'altra formazione. Sì, anche questa settimana credo che faremo i conti con qualche squalificato. Mi viene in mente quinto, Agnelli non c'è, Ferrante non c'è, rientra Tomaselli, rientra Esposito, vediamo se riusciamo a recuperare anche Cassandro che ha avuto un piccolo problema muscolare. E vabbè, siamo questi, cerchiamo di fare sempre il possibile, poi alla fine tireremo le somme. Non corri il rischio di doverti rimettere tu in campo, no? No, non lo posso più fare, magari tornare a giocare, sarebbe bellissimo.